Si scrive così, ma non so bene come si pronunci. È il programma che sto utilizzando in questi ultimi mesi per montare video con un telefonino, perché mi sembra il giusto compromesso tra funzionalità, semplicità e prezzo. Ma ti racconto tutto tra qualche minuto. Ben ritrovato immaginativi su questo canale dedicato a chi vuole creare video per promuoversi ad iniziare dal proprio telefonino. Iscriviti quindi se vuoi rimanere aggiornato su strumenti e idee. Veniamo a VLLO. Premetto che questo è un tutorial base. Le funzioni di VLLO sono molto più elevate, performanti di questo. Se volete qualcosa di più forte, fatemelo sapere con tanti like o anche scrivetemi le vostre esigenze qua sotto. In questo tutorial vi racconterò come creare il progetto, importare le clip, tagliare, rifinire, inserire testi e musica. Come prima cosa, apri il programma e selezioni le clip che vuoi importare. Basta cliccare e si allineano tutte lì sotto. Il consiglio è quello di selezionare le clip già più o meno nell'ordine in cui vorrai creare il formato finito. Puoi sempre riordinarle, ma sono tutte operazioni che richiedono tempo e nello spazio limitato di un telefonino possono anche diventare difficoltose. A questo punto clicchi il tasto rosa e prosegui. In questa schermata puoi scegliere quale sarà il formato di esportazione del tuo video. Come vedi ci sono tantissimi formati perché c'è il formato classico orizzontale 16 noni, c'è quello verticale, c'è quello quadrato e ci sono anche tanti formati particolari come il 4 quinti o quello panoramico tipicamente cinematografico in cui il rapporto è vicino tra il 2 e 1. Sotto ci sono tre possibilità a cui prestate attenzione, soprattutto magari se create in formato un video quadrato o state cercando di adattare clip girate in orizzontale al formato verticale o viceversa. Ci sono infatti le tre opzioni adatta, riempi o centra. Adatta significa che il video, il vostro filmato apparirà con delle fasce nere sopra e sotto nel caso in cui per esempio sia girato in orizzontale in un formato quadrato. Il formato riempi significa che la vostra inquadratura verrà tagliata ai lati oppure sopra e sotto, dipende dai casi, e invece centra può essere utile quando avete magari un video che voi scaricate da una diretta ed è a una risoluzione più bassa di quella che andrete ad esportare. Nella schermata successiva siamo già all'interno del programma di montaggio video, in fondo, in basso, sulla timeline. Lo spazio di lavoro trovi allineate tutte le tue clip nell'ordine in cui tu le hai importate. Presta moltissima attenzione, e te lo ripete anche il programma, che i file video originali su cui stai lavorando non devono essere cancellati o spostati dalla loro posizione finché non hai esportato il filmato finito. Altrimenti tutto il lavoro all'interno del progetto andrà svanito perché rimarrà soltanto le parti di grafica ma i file originali non ci saranno. Questo vale per qualsiasi programma di montaggio video, e non è la prima volta che lo dico, perché i programmi lavorano soltanto con dei link a dei documenti che stanno altrove. Se elimini i documenti non funziona più il progetto. Ti mostro successivamente come fare tutte le operazioni classiche del montaggio video, quindi riordino, rifinitura e divisione in due delle clip. Come prima cosa invece ti mostro come inserire la musica o un commento audio, perché chi ha bisogno di fare un montaggio veloce, magari altrimenti si scoraggia e pensa che sia tutto troppo complicato. Per inserire la musica, clicca in basso sul simbolino della musica e tutte le varie linee, tutte le tracce che compongono i vari livelli del tuo progetto, si andrà a posizionare in modo da farti vedere la traccia musicale. Clicchi nuovamente sulla nota musicale di fianco alla traccia per aprire la finestra di importazione. VLLO ha una libreria di musica royalty free che puoi utilizzare e lì sopra trovi il contratto di licenza più semplice in cui io mi sia mai imbattuta. Lo so, non è la musica d'autore che solitamente ascolti, ma è quella che puoi utilizzare per i progetti che hanno uno scopo commerciale. Puoi anche utilizzare un altro tipo di musica, quella che hai sul tuo telefono, salvo che tu abbia acquisito preventivamente i diritti di sincronizzazione. Il discorso è molto complesso, ho provato a spiegarlo in questo post. Qua mi dimito a dire che clicchi sul simbolino della cartellina e puoi esplorare in tutti i file audio che hai sul tuo telefono, importarli e utilizzarli come colonna sonora. In alternativa alla musica puoi andare a registrare un commento audio sotto le tue immagini che scorrono. È molto utile soprattutto per chi fa un lavoro di tipo giornalistico perché il format del servizio classico immagini più commento è ancora parecchio diffuso. Vedi un simbolo di un microfonino di fianco a una traccia, clicchi lì sopra, aspetti il conto alla rovescia e puoi iniziare a registrare direttamente mentre vedi le tue immagini. Testi. Inserire scritte sui video è una delle funzioni più gettonate e richieste per un'app e giustamente perché soprattutto per chi crea i video per i social inserire dei testi esplicativi è assolutamente fondamentale. Quindi vediamo come fare. Nella barra sotto clicchi sull'icona T e in automatico lo spazio di lavoro si posiziona sul livello di traccia dei testi. Tutte queste tracce sono livelli che si vanno a sovrapporre al tuo video principale, solo che vengono visualizzati tutti sotto la traccia principale, però in realtà basta pensarli al contrario ed è abbastanza intuitivo. Clicchi sulla T di fianco alla traccia come abbiamo fatto prima e si apre la libreria dei modelli preimpostati da VLLO. Ne li guardi tutti e ne scegli uno che più o meno ti piace, anche se poi potrai andare a personalizzarlo completamente in una fase successiva. Quindi ne scegli una e poi ti si aprirà tutta la barra degli strumenti di modifica. Clicchi su testo per inserire il tuo contenuto e di fianco puoi andare a modificare il colore, modificare la font, inserire un colore di sfondo che per la leggibilità non fa mai male e insomma andare a impostare tutte quelle accortezze che si fa normalmente anche in un qualsiasi programma di grafica. Va detto che il programma tiene in memoria la formattazione, quindi carattere, colore, sfondo. Quindi la prossima volta che andrai a inserire un testo in automatico tra i modelli troverai la tua ultima modifica che potrai usare come modello per il prossimo testo. E infine arriviamo al montaggio video vero e proprio, cioè riordino, rifinitura e separazione delle clip. Vediamo come rifinire le clip, cioè tagliare l'inizio o la fine di un tuo video, che è una cosa che serve spessissimo perché molto spesso all'inizio magari si vede che noi schiacciamo rec oppure ci dobbiamo posizionare, idem per la fine. Per accorciare l'inizio e la fine il metodo classico è quello di posizionarsi sulla parte finale del rettangolino che simboleggia il nostro video, tenere premuto e trascinare verso l'interno per accorciarlo o ritrascinare un pochino verso l'esterno per riallungarlo. Questo è quello che si fa in praticamente ogni programma di montaggio, in ogni app di montaggio video. Infine arriviamo al riordino che è quell'operazione per modificare la sequenza delle clip. Se ad esempio vuoi cambiare l'ordine in cui hai importato il tuo video perché vuoi fare delle modifiche, hai separato qualcosa, devi cambiare l'ordine, riordinare le tue clip video. A questo punto basta tenere premuto sull'anteprima del video e spostarlo là dove vuoi che appaia. Fai tutte le operazioni del caso, muovi le tue clip, osserva la nuova sequenza che sei venuta a creare e eventualmente torna a rifare l'operazione per cambiare la sequenza. Grazie dell'attenzione, se il video ti è piaciuto lasciami un commento qua sotto. Dubbi, apprezzamente, richieste, vale tutto pur che sia pertinente? Se vuoi restare in contatto con me c'è la mia newsletter mensile in cui racconto un pochino di dietro le quinte e se ti iscrivi qua di fianco ricevi il corso in 7 mail, decolla con YouTube. Per oggi è tutto e metti in immagine la tua storia per creare la visibilità che meriti.